In un festival che soffia in direzione ostinata e contraria non stona, anzi risulta perfettamente calata nel contesto la figura di Corrado Augas. L'intellettuale sarà ospite della decima edizione del Gubbio Dogfest e salirà sul palco di Piazza Grande il prossimo 23 agosto. Giornalista e scrittore raffinato, impareggiabile conduttore, autore televisivo, drammaturgo e politico, a Augas si aggiungerà la lista dei grandi personaggi della cultura italiana che hanno preso parte nel corso degli anni alla manifestazione. Ma noi italiani chi siamo? È questo il titolo dello spettacolo con cui si presenterà, ma soprattutto l'interrogativo a cui cercherà di rispondere attraverso una narrazione avvincente ed emozionante. Corrado Augas racconterà l'avventura di una vita, la sua e di come questa si sia sovrapposta ai tanti eventi degli ultimi decenni, dall'evocazione dell'infanzia in Libia al ritorno a Roma, dall'incubo dell'occupazione tedesca al collegio cattolico e poi i primi passi nel giornalismo, la televisione, i libri letti e quelli scritti. Un racconto leggero come una conversazione tra amici, ma fondato su quelle che sono state da sempre le principali direttrici di Augas, la curiosità intellettuale e la passione civile. I biglietti saranno acquistabili nei prossimi giorni su Ticket Italia, Ticket One o alla tabaccheria del bar della stazione.